Benvenuti a Lifeness! Ecco, scusa Susanna, mi hai invitata sul pianeta Lifeness, ma io che cosa mi devo aspettare adesso da te? Tutto il meglio della vita, salute, benessere, formazione, cultura, arte, design, tutto ciò che può piacervi. Elisa! Ah, Elisa Stefanatti, la nostra inviata, è già uscita, data di corsa per realizzare tutti i nostri contributi. Grazie a tutti!